ciao a tutti sono carlo grazie per vedere il video anche oggi oggi vi spiegherò come suonare il ritornello di roxen dei polis partiamo subito allora le note del ritornello sono si bemolle fa e sol la particolarità è che bisogna arrivare su queste note cioè il tempo fa un due un quindi per arrivare al si bemolle uso un do un do si bemolle io uso questa ditteggiatura adesso vi farò poi vedere perché perché viene fatto dopo questo si bemolle un bel emmeron con il la per arrivare a fa uso il mi bemolle che sta due tasti sotto corda di la tasto sei che va al tasto otto arrivato qua faccio sempre l'emmeron due volte quindi mi bemolle e fa poi devo scendere a sol e mi appoggio sul fa e mi rom e poi ricomincio da capo cambio la ditteggiatura proviamolo con la batteria molto lento attenzione alla partenza un due punto ricomincia come potete sentire la nota della corda arriva un ottavo prima del battere uno due un do si e qua entra il battere si e qua entra il battere attenzione quindi al tempo questo riff infatti è comunque abbastanza complesso da suonare perché aveva uno spostamento ritmico e poi a questi emmeron che grazie per aver visto il video anche oggi mi raccomando mettete un mi piace lasciatemi un commento chiedetemi qualche video ci vediamo prossimamente grazie ancora ciao a tutti carlo ciao 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 ciao